ciao a tutti detector valerio mi sono arrivati due pacchi amazon ma presi mi zio ringrazio vediamo che cosa mi sono comprato vediamo che ci riesco una mano aspettare ah sono fatto più altre cose una bella cover per il mio nuovo telefonino è un bello zappo nuovo così non vado più con quel cazzo di mal in peggio alla grande questo roguenac micropick mattock questo già mi piace tocca testarlo ok passiamo al prossimo buttavo passiamo al più grosso e qui che ci sarà aspetta questo metodo è qua un pacco misterioso madonna guarda qua quanta robaccia ah guardate un po' una mini pana drape ecco qua qua chi è guarda che draper questa nelle campagne ho zappo in montagna tra tre settimane ci vado faccio anche il ritrovamento su in montagna ecco qua tre oggettini questo do cazzo butto cazzo butto carta cartone via ecco qua uno due